non è che si prepari prima tutto e poi avvino, no, lui avvia, poi prepara mentre arrivano le persone, quindi posso inviderlo traficare e vabbè, non lo fa mai nessuno e ho capito, ho capito, vabbè, ok ci arriviamo al let's go Pikachu è il berlusconi di turno, vai tranquillo che schifo quello lì è tempi sotto acidi sì, ma è praticamente, è salto fuori dalla Pokéball in posa base ed è atterrato in posa base canta al cancello oh cristo, se noti, se noti, quelle che sono vicino a te sono ok, ma più si avvicinano al cancello fanno schifo guarda bene, torno dove lì prima sulle scalette vediamo un attimo nota come man mano che si avvicina peggiora ragazzo bene, sono contento va bene, esploriamo un attimo benvenuti cosa vuoi esplorare che c'è un corridoio di grazia? buono allora io salvo adesso sperando di non corrompere tutti i dati degli altri giochi oh no c'è il campione concia risardo ma no li leggi tutti e gli hai dati ad accannarsi dice Vivider eeeh vabbè ordunque ordunque Wedgehurst il vostro campione leon aspetta aspetta e ci aggiungi un pota quando ci sta ok allora facciamo che allora lui lui è bergamasco eeeh allora prometto che andrò avanti a fare del mio meglio per portare le migliori battaglie in modo che voi possiate vederle pota 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 no e quindi vedrete a sfidarvi per il titolo di campione pota eeeh si va bene ok che crimine c'è anche che beviamo un pirlo insieme e siamo a posto eeeh siamo nel milanese qua siamo dalle mie parti perchè? eeeh quanta nebbia c'è una shigera che eeeh preparati a morire allora io salvo aspetta non puoi scappare per qualche ragione eh praticamente mi hanno salvato le gambe no 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 è la motivazione di b sharp tipo una forza invisibile una forza invisibile ti impedisce di passare cioè dai aiuto il gioco di b sharp si vediamo la mia fortuna ma vivider cosa dici? le texture sono belle ok questo me lo salvo perchè non è vero assolutamente ok lui lo voglio in squadra comunque perchè a me l'evoluzione piace eeeh ho avvistato la waifu ooooo la finalmente qualcosa di bello in sto gioco si che poi gonna cosa che comunque sotto ci sono i trouser ma vabbè allora dai la prendo verde perchè almeno sta bene con questa roba Paco? dimmi qual è il problema con quest'acqua? eeeh è piatta e i riflessi non corrispondono non c'entra un cazzo con l'area circostante cioè sono due stili completamente diversi no no a parte questo occhio che sta riflettendo cose che non ci sono andiamo basta andare qua ma come cazzo funziona la telecamera su sto gioco? mmm comunque la volpe si chiama Nikit ok weird champ e ho già praticamente i pokemon che volevo già va bene che bellino però vivita dice fermo non so perchè eh un attimino lo chiamo letter of endorsement ah ok ah ok questo qui è tipo anime hai bisogno dell'approvazione per affrontare va bene questa è una cosa carina c'è qualcuno ha spento la luce io ho spento la luce? oh mamma mamma mia sei simpatico fra qui oh Paco dimmi guarda rifatti gli occhi in questa mappa intendi? oh si eccole qua le famosissime terre selvagge vai subito a cercarti l'albero proprio con la con la maiuscola vediamo un po' aspetta aspetta cosa? quell' onyx c'era anche nella live di alfard si certo stesso punto adesso mi vede e mi carica vuoi fra? vabbè onyx è a dimensione normale si aspetta che entra in battaglia basta con ste note voglio scoprirmele da solo le cose ehi Paco dimmi dove si trova a cabruder? vai a raccogliere le bacche beh ma in effetti c'è c'è oddio quel tizzoliero è inquietante dai vinello e si va oddio si effettivamente sei un vin brulee ambulante fra dai completamente vinello vinello puro? vinello via io ti ci vedo benissimo a giocare a briscola con i vecchi di avere il vin brulee di inferno dovevi chiamarla tavernello non era previsto più che altro che non lo sapevo che fatessimo così cioè io mi sono imposto di non guardare troppi leak ah adesso c'è la battaglia in doppio ma cosa mi curi a fare che non non hai neanche preso danno praticamente questa qui si cringe tantissimo non si vede il numero perchè perchè c'è i capelli beh non possono buttarmi giù i video per allusioni sessuali sono un genio Paco e ora ah ok siamo noi tre i capi palestra per capire no ora si vede il numero fra male ti bannano adesso poi c'è un 960 per far da cuore qui si vede il numero fra per eccessione per avere il numero fra Grazie a tutti.